Grazie Presidente, grazie Assessore per la nota che mi ha illustrato e che ha messo in evidenza quelle che sono le criticità che stiamo ereditando qui nel Comune di Roma. E infatti vorrei fare un approfondimento proprio sulla richiesta che io le ho fatto circa proprio il debito che Roma Capitale ad oggi ha a partire dal 2008, cioè quello che è ordinario appunto perché abbiamo uno diciamo in gestione commissariale che è molto più cospicuo, ma noi cerchiamo di analizzare quello che è il nostro ereditato in questa amministrazione ordinaria. Noi abbiamo 1 miliardo e 200 milioni di debito diciamo abbastanza certificato a 31 dicembre 2016. Di questo 1 miliardo e 200 milioni giustamente si è fatta una selezione sulla base appunto dei criteri che ha messo in evidenza per ridurre quello che è appunto l'esposizione debitoria del Comune di Roma. E quindi noi per la prima volta vorrei dire da quanto è stata amministrata questa città si tende a ridurre un debito. Di solito in generale fino ad oggi stiamo notando che la politica sia nazionale ma sia in generale anche degli altri antilocali è sempre di quello di incrementare un debito. Invece noi, e quindi questo è qualcosa che vorrei portare diciamo all'evidenza pubblica, cioè quindi a tutti i cittadini, che il Movimento 5 Stelle per la prima volta sta riducendo il debito di Roma Capitale di 99 milioni come risulta indelibera. Questo da dove nasce? Allora volevo cercare di fare un salto al nazionale da dove ereditiamo questo invito. Praticamente nella legge di stabilità del bilancio 2017 viene chiesto una riduzione del peso del debito degli antilocali. E quindi questa legge si mette in evidenza proprio con il coma 462 bis, quindi proprio per il 2017 e per il 2018, gli antilocali possono procedere all'estinzione anticipata totale o parziale di passività onerose derivanti da mutui e prestiti obbligazionali. E cita cassa depositi e prestiti, istituti di credito sportivo e altri istituti di credito, mediante appunto la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari. Quindi praticamente il motivo principale che viene dato a questa norma è quello di ridurre il peso del debito perché rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali. E ostacola, e questo lo voglio mettere bene in evidenza, ostacola il rilancio degli investimenti. Questo che cosa significa? Significa che fino ad oggi noi a livello nazionale abbiamo un debito pubblico, per chi non lo sa, di più di 2.000 miliardi di euro a livello nazionale. Che cosa sta comportando questo? Sta comportando una contrazione degli investimenti pubblici. Quindi significa che il nostro paese non cresce perché? Perché noi stiamo semplicemente tagliando per favorire il pagamento di interessi sul debito pubblico che ci portiamo da anni e che è intorno al 60-70 milioni l'anno di interessi sul debito pubblico che se non avessimo questo macigno potremmo investire. Il Movimento 5 Stelle che sta governando questa città ha fatto questa scelta un po' di controtendenza, direi, rispetto a quello che sta facendo la politica nazionale. Noi stiamo cercando di ridurre il debito affinché questa riduzione del debito ci porta in maniera strutturale, e lo voglio sottolineare, una riduzione degli interessi da qui al futuro. Perché se facciamo un'analisi di quanto sono i debiti che noi ereditiamo, sempre di questo famoso 1 miliardo e 200 milioni, possiamo dire che abbiamo una bella fetta di interessi passivi che dovremo pagare da qui al futuro, con le varie scadenze che abbiamo. Questo quindi che cosa significa? Significa che noi stiamo, come diceva l'assessore prima, recuperando risorse per avere spazi finanziari, per fare investimenti. Non è una cosa da poco, cioè voglio dire, forse non lo so se qualcuno mi sta seguendo, ma qui significa che noi dall'anno prossimo e poi potremo avere qualche spicciolo in più per fare investimenti e far crescere questa città. Ora faccio un piccolo escurso su questo fatto del debito di 1 miliardo e 200 milioni. Allora ne abbiamo fatti 7 nel 2009, 25 nel 2010, 27 nel 2011, 16 nel 2012, 17 nel 2013, 29 nel 2015, 8 nel 2016 e 15 nel 2017 per finanziare le scuole. Questo che cosa significa? Significa che noi stiamo ereditando una situazione di cui stiamo cercando di invertire la tendenza ma che comunque ci comporta, cioè un ostacolo non da poco perché è vero che stiamo levando 100 milioni ma ce ne sarebbero di più di risorse, cioè ce ne servirebbero un po' di più per eliminare un qualcosina di più e per liberare risorse che ci servirebbero per amministrare meglio questa città. Un'ultima mia considerazione su questo aspetto particolare del debito di Roma Capitale che stavamo analizzando, visto che stiamo in commissione bilancio trattando i debiti fuori bilancio ed è una cosa che volevo mettere in evidenza anche per questo aspetto, e cioè i debiti fuori bilancio sono anche, diciamo, noi stiamo politicamente facendo questa scelta di pagare i debiti fuori bilancio con determinati criteri e che quindi comportano che noi leviamo spazi di finanza alla gestione ordinaria della nostra città. Questo che significa? Significa che noi per cercare di risolvere problemi ereditati dal passato, perché qualcuno ha fatto delle spese che non doveva fare in passato, perché non tutti sono dei debiti fuori bilancio giusti come prevede il Tuel. A volte, diciamo, sono stati un po' delle allegre spese, dove lo stesso OREF ha messo in evidenza nelle varie delibere che parte di quei debiti fuori bilancio sono giustificabili per eccezionalità, ma altre potevano essere evitate. Quindi questo per dire che se noi riusciamo ad invertire questa tendenza, quello che stiamo facendo, e quindi riusciamo a gestire al meglio l'amministrazione capitolina con programmazione e pianificazione, potremo evitare tutte queste inefficienze che ci portiamo dal passato e far rinascere, come dice spesso la nostra sindaca, far rinascere questa città realmente. È logico che per poter far rinascere una città ci vogliono risorse finanziarie per fare investimenti, perché poi dagli investimenti servono per ristrutturare un pezzo di città che possono a sua volta creare delle economie positive. Quindi, che dire da questa variazione di bilancio? Stiamo facendo un lavoro certosino. In Commissione e bilancio abbiamo affrontato anche il discorso del consolidato, cioè che noi dovremo a inizio dicembre modificare il consolidato proprio in vista di questa riconciliazione debiti-crediti, che è anche un qualcosa che ereditiamo dal passato, che però abbiamo messo mano e che fortunatamente per fine anno riusciremo a chiudere quest'altro problema di debiti-crediti con Ame e con Atac. Quindi tutto questo lavoro di riconciliazione, di debiti fuori bilancio, di debito di Roma Capitale, sono tutte situazioni che man mano ci stanno portando a migliorare la gestione finanziaria di questa città. Come ultimo, direi che abbiamo fatto anche una manovra che migliora, cioè ridistribuisce un po' la spesa, perché vengono chiuse alcune spese, vengono riaperte altre, cioè nel senso che lì dove non si poteva probabilmente spendere per fine anno si è chiusa giustamente perché altrimenti non si potevano poi più utilizzare quelle risorse e quindi si vede che ci sono state delle maggiori spese da affrontare entro l'anno. E invece poi un altro aspetto importante che volevo mettere in evidenza, sempre di questa variazione, era l'aspetto tributario, e cioè che noi praticamente siamo riusciti ad accertare 74 milioni di euro, ma la cosa importante, almeno a mio avviso, quando ho visto la relazione, anzi la delibera, ho visto che 64 sono per cassa, che non è una cosa da poco. Quindi per dire, non è che ce le stiamo inventando, ma questi soldi già sono quasi entrati, voglio dire. Quindi abbiamo solo questo gap di 10 milioni che entro l'anno bisogna accertare e riscuotere. Questo per dire, io almeno come parte politica di maggioranza, sono soddisfatta di questa manovra. Grazie. Grazie.